Siamo tutti uguali e non abbiamo differenze e ci meritiamo tutti il rispetto. Nessuno ci può togliere i diritti e di razza c'è una sola, quella umana. La giornata della memoria mi ha fatto capire che tutti devono essere liberi. Un violino in tono alla ninna nanna composta da Ilse Weber per i bambini rinchiusi e uccisi nei lager nazisti prima che la stessa sorte capitasse anche a lei e a suo figlio Tommy. Anche nella bassa, fra la nebbia e il giorno della memoria, il piccolo centro di Bastida Pancherana ha dedicato un angolo del parco giochi proprio a loro, ai bimbi rinchiusi nei lager, lasciati morire, magari senza medicine o gettati nelle camere a gas, con l'unica colpa di essere nati dalla parte sbagliata del mondo. A loro e al presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli, recentemente scomparso, il comune ha dedicato questa giornata. Abbiamo voluto commemorare la Shoah dei bambini, dedicando a loro nel parco giochi un angolo. Queste piante negli anni cresceranno e a tutti i bambini, ma anche agli adulti, ricorderanno i tanti bambini scomparsi. Qui voglio anche ricordare il presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli, che ha avuto il merito di abbattere tante barriere. In particolare non ha voluto muri né fili spinati, accogliendo nel Parlamento Europeo le donne e i bambini profughi.